Forse il forte vento, un traliccio che probabilmente non regge e cade dando il via ad un rogo che ha fatto tremare Atri e gli abitanti a ridosso del centro storico evacuati e portati in salvo in piena notte nel piazzale dell'ospedale San Liberatore. Ore di paura e di lavoro intenso per i vigili del fuoco per domare l'incendio sviluppato in via Colbe verso Contrada Panice, angolo ricco di vegetazione e giusto un piano più in basso del centro di Atri. Inmediato l'allarme e le procedure per mettere in sicurezza tutti gli abitanti che stamattina hanno assistito alle operazioni di spegnimento che continuano grazie all'ausilio di Canadair e un ericottero Ericsson. In questo momento sicuramente la situazione è migliore rispetto a questa notte perché questa notte ci sono stati dei momenti veramente critici dove anche grazie alla collaborazione dei carabinieri, dell'arma dei carabinieri, purtroppo si è reso necessario, necessaria l'evacuazione di alcune abitazioni. Adesso diciamo nella parte prettamente abitata di Atri la situazione è sotto controllo, adesso c'è la parte vegetativa in basso che ancora brucia in alcuni punti e anche se al momento possiamo dire che pure lì c'è una situazione abbastanza sotto controllo anche perché il collega Doss sta operando con due Canadair e un elicottero, un Ericsson. Al momento siamo 13 unità operative, Teramo e Roseto, ragazzi della protezione civile e le operazioni penso che andranno avanti ancora per alcune ore. È arrivato l'Ericsson da pochi minuti, l'Ericsson è un velivolo che può invece effettuare il rifornimento anche se il mare è mosso, mentre invece due canader da questa mattina hanno dovuto effettuare il rifornimento al lago di Campotosto, appunto per il vento e per le condizioni del mare che non permettevano il rifornimento. Abbiamo visto ancora qualche rogo, anche se piccolo, che ogni tanto si riattiva. Sì perché non sembra ma in alcuni punti il vento ancora è presente, pertanto in poco tempo realimenta delle zone che sembrano quasi spente e invece poi nel giro di pochi minuti la combustione riparte anche in modo abbastanza vivo. Però ecco speriamo nell'arco della giornata di spegnere completamente questo incendio. Il fumo continua e continuerà ancora per ore, per questo la raccomandazione ai cittadini di restare a casa naturalmente con le finestre chiuse. Continuerà per ore perché c'è una parte dell'incendio che continua e non era raggiungibile purtroppo dai vigili del fuoco via terra e quindi l'unica soluzione è con i canader che sono arrivati non appena è stato reso possibile a seguito delle condizioni climatiche. Quindi purtroppo il fumo continuerà per ore, però ormai ecco siamo fuori pericolo nel senso che poi è stato domato con la grande efficienza dei vigili del fuoco che sento di ringraziare insieme all'arba dei carabinieri, alla polizia e alla protezione civile che hanno fatto un intervento deciso. Io ho ricevuto la prima chiamata alle 5 meno un quarto di questa mattina, mi sono recato subito sul luogo, già c'erano le squadre e poi abbiamo iniziato l'evacuazione. Ecco ho ritenuto di non dover fare un comunicato pubblico ma con un'evacuazione fatta da parte dei carabinieri suonando nelle case. Quante persone sono state evacuate più o meno? Guardi la parte necessaria da evacuare era quella che andava diciamo da Santa Rita fino a Porta Macelli.